è la sola chiave che cosa significa vivere commento significa abbracciare l'insieme delle nostre vibrazioni per esaminare le molteplici facce di quella che a noi sembra la realtà al filtro della nostra evoluzione le facce sono gli specchi necessari per aiutarci a comprendere non tanto gli altri quanto noi stessi la comprensione di noi stessi è la sola chiave che ci permette di comprendere gli altri sempre più a fondo